...un riordino complessivo della legislazione in materia di fanghi, perché appunto fino a prima del decreto Genova venivano disciplinati sostanzialmente i metalli pesanti come sostanze tossiche e non altri che invece sono stati introdotti da questo decreto. Allora è chiaro, questo soltanto per far capire ai nostri spettatori la complessità di questo tema, abbiamo parlato soltanto dei fanghi da depurazione e speriamo solo quelli da depurazione e anche non altri e adesso ci addentriamo in un altro territorio, parliamo dei pesticidi, andiamo a Pistoia che è il regno dei vivai, è la zona dove industrialmente sono più fiorenti i vivai e dove quindi sono stati autorizzati decine di pesticidi. Giorgio Galleano. Questo è un vivaio e a fianco, la distanza è praticamente zero, troviamo il pozzo dell'Acquedotto. Qui qualche mese fa era tutto giallo di glifosate. Ora naturalmente siamo stati sul giornale, hanno smesso di darlo, ma le distanze comunque non sono assolutamente rispettate e questa è una cosa veramente oscena che in Italia si possa permettere, in Toscana si possa permettere di spargere questi veleni vicino ai pozzi di captazione dell'acqua. La fascia di rispetto di 200 metri e quella di tutela assoluta, 10 metri, dovrebbero proteggere i pozzi, ma di fronte all'esplosione dell'industria vivaistica non sembra esserci un modo per proteggere le case. Tanti residenti, come questa signora, avevano comprato o costruito casa in campagna e ora, assediati dai vivai, vorrebbero vendere ma non trovano compratori. Lo sanno che c'è pesticidi e che fa male. Le sostanze autorizzate sono sostanze che non interagiscono in alcun modo con le acque profonde, bisogna stare all'interno di quelli che sono i range che dà il Ministero della Salute e il Ministero dell'Agricoltura. Non tutte le sostanze si possono utilizzare per ogni tipo di cultura, ma c'è un lavoro scientifico molto accurato. Per questo proposito, fra i 29 pesticidi autorizzati in area di salvaguardia dell'acqua potabile ci sono azinfosetile, azinfosmetile, demetone-smetile o metoato, che sono tutti stati revocati sia a livello europeo che dal Ministero della Salute italiano che ha revocato l'autorizzazione. Come mai qui si possono usare? In realtà il lavoro è fatto, come ripeto, attraverso un supporto scientifico degli organismi di controllo. Quindi le sostanze che sono state consentite sono sostanze consentite a tutti i livelli. Queste quattro sostanze sono autorizzate o no? No, non sono autorizzate né in Unione Europea né dal Ministero della Salute, sono stati revocati tutti i prodotti che le contengono. Come medici siamo estremamente preoccupati perché la regione toscana ha spianato la strada, perché ha liberalizzato l'uso di queste 29 sostanze. E questa è una tentata alla salute, non ho problemi a dirlo. L'impressione di noi clinici è che le malattie oncologiche in generale siano in aumento, in particolare le malattie onco-ematologiche. Quindi un rapporto con qualche fattore ambientale ci deve essere per forza. Arpad ha detto che le acque pistoiesi sono inquinate con il 30-40% in più del livello tollerabile di pesticidi, a livello poi di altre sostanze tipo cloruro di vinile, addirittura 700 volte la quantità tollerabile. Siamo qui a chiedere chiarimenti, indagini epidemiologiche serie. Prodotti come proprio il clorpirifos hanno un'azione fortemente inibitoria sullo sviluppo neuroevolutivo, sia del bambino in utero, quindi del feto, ma anche nel bambino dei primi anni di vita. Non ci sono livelli di sicurezza. Quando una sostanza arriva nelle falde profonde, l'abbiamo messa in cassaforte, lì rimane. Insomma, è una questione... Giorgio Calleano, ci sono dei commenti? Allora sì, arrivano veramente molti tweet dalla Toscana, dal pistoiese. Ne riporto due soprattutto interessanti. Rossella Michelotti segnala che il Forum Toscano Movimento per l'Acqua ricorda che da dati ufficiali non esiste in Toscana una sola fonte di classe A1, sorgente di acqua potabile, diciamo, la migliore. Il 17% in classe A2 e il 51% nella peggiore, la classe A3. Poi continua dicendo che la regione toscana ha ideato un'altra classe, ma il risultato finale, come dice Agnese Nardi, dice sono di pistoia, la situazione è disarmante, siamo costretti a bere acqua in bottiglia, aumentando così i rifiuti di plastica, perché le fonti di acqua per uso umano sono inquinate da pesticidi. Allora, che cosa possiamo dire a questi telespettatori che ci scrivono? Di simile e poi a leva. Sicuramente c'è un problema di contaminazione delle acque, ma se pensiamo a un contesto come quello della vivaistica pistoiese c'è anche un problema di contaminazione da prossimità. Purtroppo in Italia, l'Italia è uno dei paesi maggiormente consumatori di pesticidi in agricoltura, siamo il terzo in Europa con i quantitativi, ma se pensiamo al fatto che abbiamo una superficie agricola relativamente modesta, l'uso di pesticidi in Italia è ancora molto intensivo. Finora però, se pensiamo ai pesticidi usati per le culture food, alimentari, abbiamo un livello di controllo che è legato al fatto che non ci devono essere contaminazioni nei cibi. Quando parliamo invece di culture non food, questi livelli di controllo saltano e questo fa sì che per esempio settori come la vivaistica abbiano delle pesanti responsabilità nei confronti dell'inquinamento dell'ambiente, delle acque, delle acque superficiali e delle acque sotterranee. Quindi sicuramente abbiamo bisogno di affrontare con maggior decisione e forza l'impegno per ridurre fortemente, per non dire arrivare ad eliminare la presenza di pesticidi nei campi che oggi rappresenta sicuramente uno dei maggiori fattori di pressione ambientale e sanitaria nel nostro paese. Allora, noi...